Abbiamo ridotto la fede cristiana a una questione di buoni e cattivi, non capendo che il vero problema è la menzogna, cioè il fatto che noi crediamo che le nostre idee, le nostre convenzioni, i nostri modi di pensare sono giusti, veri e santi, in fondo ci abita una parola che ci porta a ingannarci, infatti come dice il Vangelo lo spirito parla e allora quel è il grande paradosso, che anche noi riconosciamo che Gesù è il Santo di Dio, il Figlio di Dio, però non deve rovinarci, deve lasciarci in pace, come ci salviamo? Taci, facciamo azzittire questa menzogna che ci abita, esci, buttala fuori, non farla abitare in te e poi lo strazio e il grido perché è chiaro questo provoca dolore, provoca sofferenza, provoca un cambiamento, ma è normale, è una sofferenza santa e una sofferenza che ci libera, che il Signore ci doni di liberarci dalle nostre menzogne per accogliere la verità, che è l'amore di Cristo che si fa presente nella nostra vita. Buona missio.